Ho sempre fatto vignette per il calcio in maniera amatoriale da tifoso, farlo per la prima volta per una società di basket, quindi comunque confrontarmi con un nuovo sport, farlo con la volontà di dare alla squadra anche qualcosa che portasse valore a quello che è il percorso straordinario che la squadra ha fatto quest'anno. E vedere che questo è stato riconosciuto anche a livello nazionale da parte della Lega è stata sicuramente una bellissima soddisfazione. Mi ricordo che quando ho ricevuto il messaggio è stato veramente molto 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 bello. Mi è stata subito una sinergia molto bella perché comunque con la società, anche con UNSB si è creato comunque un bel rapporto dove mi è stato dato comunque tanto spazio libero. Ho avuto la possibilità di spaziare su quello che in quel momento sentivo a fine partita e quindi di rappresentarlo nel modo che ritenevo più opportuno. Questo secondo me ha funzionato tanto perché siamo riusciti a dare comunque una risposta abbastanza genuina a quello che succedeva poi al palazzetto. Quindi secondo me è stato un rapporto molto molto bello.